tvg è un setting che si trova su tanti strumenti serve soprattutto per chi pesca profondo questo vuol dire per chi usa lo strumento oltre i 100 metri ma comunque diciamo che è un settaggio che è comodo conoscere va bene sapere esattamente dove va a lavorare e come funziona il tvg sulle macchine moderne sia ecoscandaglio che sonda viene gestito automaticamente perché se l'ecoscandaglio è in grado di riconoscere la sonda e i modelli nuovi hanno questa facoltà conosce le caratteristiche della sonda quanto è grande l'angolo quanto è potente quanti o potenza appunto la sonda piuttosto che tutte le altre caratteristiche proprio inserite nella sonda fisiche ed è in grado quindi a calcolare in modo autonomo il tvg per questo sulle macchine nuove anche a 200 300 metri di profondità tutto funziona bene ma partiamo dall'inizio perché si usa il tvg e a cosa serve il tvg serve per rendere la colonna d'acqua che abbiamo sul nostro strumento tutto quello che viene visualizzato sul nostro screen che abbia la stessa risposta in termini di colore anche più o meno di dimensione sui target spiego ancora meglio se noi abbiamo un banco di pesce o anche un pesce singolo a una profondità di 200 metri questo avrà molta meno energia di risposta sul nostro ecoscandaglio rispetto un pesce lo stesso pesce o stesso banco che si trovi per esempio a 50 metri allora per chi pesca su una colonna d'acqua importante che va da 0 a 200 anche da 50 metri a 200 a 300 a 500 ha il problema di riuscire a capire se il banco di pesce che sta visualizzando 200 metri è simile rispetto a un banco di pesce visualizzato a profondità minore visto che l'energia di risposta determinata dalla costruzione fisica della sonda ma anche dal stesso fatto che c'è un angolo di emissione quindi più giù andiamo più l'energia si disperde e il banco di pesce rimane sempre quello è chiaro che sullo strumento bisogna fare qualcosa in modo che queste due cose vengano rappresentate nello stesso modo tvg quindi time variate gain questo è il nome tvg appunto un'abbreviazione serve per far quindi variare il gain in funzione della distanza o del tempo che poi è la stessa identica cosa parte l'impulso della nostra sonda appena partito avrà un'energia molto forte perché il cono è molto stretto procedendo verso il fondo verso il target diminuirà questa energia se nel frattempo trova un target la riflessione di questa onda che torna su verso il nostro trasduttore è quella che ci fa leggere il target sull'ecoscandaglio ma a seconda quindi di un tempo che corrisponde anche a una distanza sarà più o meno intensa anche se il target è sempre quello quindi serve per quando si va a pescare soprattutto in acque molto profonde e abbiamo bisogno di tenere lo schermo pulito su tutta la colonna d'acqua io direi di usare il tvg solo quando si vanno oltre i 100 metri ma anche qui c'è da fare una piccola parentesi esistono due categorie di strumenti e sonde sono quelli recenti che quindi hanno delle caratteristiche fisiche la sonda ce le ha però anche un chip all'interno e tramite due fili che sono contenuti nel nostro connettore lo strumento riconosce la sonda sa che tipo di sonda è quindi sa che risponde in un certo modo fa da solo tutti i calcoli e capisce che se un target lo sente dopo un secondo che è partito l'impulso vuol dire che è a una certa distanza e avrà da fare un certo lavoro sul game per farlo vedere in un certo modo lo stesso target se lo sente molto prima a mezzo secondo o molto più tardi a due secondi si diciamo talerà di conseguenza e il target verrà sempre rappresentato nel modo corretto le sonde più vecchie invece non avevano questo tipo di settaggio e uno doveva andare in modo autonomo a settare il tvg per questo i strumenti professionali per esempio l'fcv 1150 o il 295 della foruno aveva la possibilità prima di tutto di scegliere la sonda e quindi dirgli un kilowatt generico e agendo sul tvg in caso di questi strumenti addirittura professionali si può anche cambiare la curva e adesso vedremo come si sceglieva il rapporto di guadagno in funzione della distanza quindi della profondità in cui si andava a lavorare questa è la nostra barca trasduttore come vedete io ho scritto tempo e distanza perché sono coincidenti di solito sui grafici il valore zero si mette in base e il valore più alto se lo mette in alto però quando noi stiamo pescando nel caso fisico nel caso reale diciamo la situazione reale noi abbiamo sempre lo zero in alto il valore più diciamo alto come valore in basso è praticamente ribaltato quindi il grafico ragionando in quel modo è praticamente una linea logaritmica che parte da zero però ce l'abbiamo in alto e va verso il basso verso il fondo qui per esempio ho segnato 100 metri ma potrebbero essere 1000 50 300 non ha importanza quello che è importante da capire è che a zero metri io avrò il massimo dell'energia a disposizione sul target e questo vuol dire il massimo di riflessione da parte del target e quindi il nostro mark sarà molto evidente sullo schermo sarà sempre rosso anche se il pesce magari non è tanto grande o il banco di pesci non è tanto grande più ci allontaniamo dal nostro trasduttore quindi l'onda ultrasonica fa una certa distanza nell'acqua più automaticamente la potenza sul target diminuisce infatti qui ho messo 1 qui ho messo 10 sono numeri chiaramente che vanno bene va bene qualsiasi numero l'importante è capire che più ci allontaniamo dal trasduttore meno energia arriverà sul target quindi la riflessione sarà minore e quindi la risposta sul nostro strumento sarà minore se prima il target sopra era evidente con un bel rosso un bel mark un bel segno molto grande è chiaro che stesso target a 100 metri sarà segnato in un modo diverso questo ai pescatori non piace tanto quindi all'airmar hanno studiato non solo all'airmar ma tutte le case diciamo in tutti gli ecoscandagli hanno studiato un sistema di taratura automatica all'interno dello strumento che va a modificare il gain in funzione della scala dell'ecoscandaglio in funzione di tutte diciamo le profondità presenti sull'ecoscandaglio visto sempre nel senso di diciamo in questo caso abbiamo cambiato gli assi per farvi vedere la curva in un modo più corretto però non ho più la distanza come vedete qui in verticale ma l'ho messa in orizzontale e la potenza invece in verticale il disegno è uguale a quello di prima alla fine aumentando la distanza la curva della potenza diminuisce diminuendo la distanza quando mi avvicino allo zero la potenza è massima faccio un esempio questo è il target sono io davanti la freccia spero si capisca bene questo è un pesce mettiamo che sia un tonno come vedete la potenza ha un certo valore ecco che corrisponde una distanza se il stesso pesce ce lo ritroviamo più in alto vedete che la potenza è molto di più e la distanza ovviamente è minore quindi questo target sul nostro ecoscandaglio sarà segnato più in grande se l'ecoscandaglio invece ha la funzione tvg e noi andiamo agire su tvg cosa facciamo facciamo in modo che qua in alto il gain si è abbassato mentre tutto quello che viene segnato qua giù in fondo il gain è aumentato ecco un esempio questo è quello che si trova sul manuale senza tvg abbiamo una situazione con il stesso banco di pesce che più vicino alla superficie viene segnato più grande più in basso invece viene segnato più piccolo tvg on settato banco di pesce che sembra è simile tra una profondità minore e una profondità maggiore questo serve appunto soprattutto ai pescherecci oppure per chi vuole pescare profondo magari tenere sotto controllo la colonna d'acqua per qualche motivo mettiamo che stiamo pescando tonni piuttosto che anche altri tipi di pesca sicuramente una regolazione del tvg fine potrebbe aiutare in realtà se stiamo pescando profondo io spero voi stiate usando lo shift nel caso che non ce l'avete utilizzate lo zoom ho fatto dei video a proposito le differenze tra zoom e shift perché non ci serve tenere sotto controllo tutta la colonna d'acqua ma se stiamo facendo qualche altro tipo di pesca o andiamo per esempio a totani e totani di profondità o stiamo facendo un drifting e vogliamo controllare tutta la colonna d'acqua ci sono tante situazioni una regolazione del tvg più o meno buona ecco per regolarlo questo poi non è proprio facilissimo cioè se ci passa un banco di pesce a metà acqua come facciamo sapere se stesso banco sarà visualizzato nello stesso modo anche 100 metri più in basso direi che non è possibile farlo possiamo fare un minimo di regolazione quando peschiamo a volentino di profondità quando cagliamo il piombo con le esche cerchiamo di fare in modo che la rappresentazione del piombo e delle esche mentre scende sul nostro schermo sia simile se lo piombo viene marcato in un certo modo a 50 metri di profondità o a 100 e nello stesso modo a 200 300 metri vuol dire che le regolazioni sono fatte tutte in un modo corretto comunque se avete strumenti moderni non dovete preoccuparvi più di tanto perché al 95 per cento questa regolazione è già imposta di fabbrica come collegate trasduttore all'ecoscandaglio lui si setta in automatico e vi darà il giusto gain in profondità o in superficie un riassunto diciamo con impostazione del tvg a meno che non siamo nel campo professionale cosa che io adesso non vorrei andare a fare a parlare a discutere il tvg si usa in profondità superiori ai 150 200 metri serve per ridurre la sensibilità nella parte più alta della colonna d'acqua nei strumenti nuovi questa è una regolazione che è e anche automatica ecco un altro uso magari buono del tvg è per eliminare tutti quei disturbi che si hanno mentre si pesca per esempio a 80 100 120 metri anche al gigging per esempio su denti cioricciole di solito il termoclino presente fa nella colonna d'acqua superiore tanti disturbi beh il modo corretto per pulire un po' lo schermo non è abbassare il gain perché andremo a perdere tutti i dettagli sul fondo ma è appunto aumentare un po' il tvg in quel caso si va a pulire la parte altra dello schermo e si ha tutto lo schermo bello definito con una buona definizione di tutti i target questo che vedete qui a destra è il grafico che si trova sullo schermo dell'fcv 1150 come vedete ci sono diverse regolazioni allora innanzitutto il livello di tvg cioè io posso scegliere da dove farlo partire posso dirgli parti da 100 metri da 200 da 0 metri quindi faccio cambiare il punto di partenza di questo grafico lo posso spostare sul mio schermo questa parte qua e qua posso decidere quanto dare di guadagno al mio segnale di ritorno cioè aumentarlo o diminuirlo questa curva qui è logaritmica quindi in realtà posso anche modificare proprio l'inclinazione di questa curva questo serve per quando mettiamo delle sonde particolari che sono tutte fra virgolette manuali non parliamo neanche di cirpo in questo caso sono tutte manuali e devono essere tarate molto precisamente quando facciamo delle pesche profonde fino a 50 60 metri non ci sono problemi ma per esempio per i pescarecci che pescono da 0 a 200 fanno una traina hanno bisogno e fanno una traina con le reti no ovviamente hanno bisogno di una regolazione precisa del tvg perché vogliono sapere la quantità di pesce che si trova 50 100 150 metri e questi momenti professionali hanno questa funzionalità qui attenzione come dice proprio furuno anche qua non impostare un valore tvg troppo elevato perché gli echi a breve distanza potrebbero non essere proprio visualizzati regolare il tvg sempre osservando bene lo schermo e stando attento a non cancellare completamente tutto questo è tutto ci vediamo la prossima regolazione e ricordatevi di iscrivervi al canale ci sono tantissime persone che guardano praticamente tutti i video ma non si iscrivono al canale fatelo perché serve per il canale per poter crescere ma serve per dare anche informazioni a youtube che vi presenterà contenuti sia del mio canale e anche simili di canali simili dove possono esserci informazioni per voi interessanti